Io sono sempre stato contrario all'autonomia differenziata, ma indipendentemente dalla tipologia dei governi ero già contro la modifica del titolo quinto, quando la mia parte politica ha modificato quella parte della Costituzione. C'è prudenza ma anche preoccupazione sull'autonomia differenziata. Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente Anci, non grida allo scandalo ma prova a spiegare le ragioni delle perplessità espresse da tanti sindaci. Argomento caldo e controverso trattato a Brindisi nel corso di un appuntamento organizzato dalla CGL. Oggi i sindaci, indipendentemente dallo schiedamento politico, sono preoccupati per una moltiplicazione di funzioni e di attività da parte delle regioni, che non sono funzioni di natura legislativa o di natura programmatoria, cosa che dovrebbero fare le regioni, ma è previsto nel decreto Calderoli un trasferimento di funzioni, che sono funzioni gestionali e amministrative, che normalmente, così come è previsto dalla Costituzione, sono funzioni che vengono gestite dai comuni, dalle amministrazioni comunali. Le scorse settimane Anci aveva presentato un documento contenente le osservazioni dei comuni sul testo di legge, accompagnato da una serie di emendamenti. E anche qui, specifica De Caro, non è semplice racchiudere idee ed esigenze di 8.000 sindaci su una questione così complessa. Ma noi abbiamo già fatto un documento, che abbiamo consegnato l'unanimità, ripeto, indipendentemente dagli schiareamenti politici, i sindaci hanno individuato delle criticità e ci sono dei sindaci che sono anche favorevoli all'autonomia differenziata, però quelle criticità le abbiamo approvate l'unanimità, le abbiamo consegnate al governo diverso tempo fa. Purtroppo non sono state fatte delle modifiche, vediamo adesso che succede con l'iter parlamentare.